Questo è molto piano, rondinai a lungo. Dall'esterno Raffaella SM coglie un'ottima partenza, scavalca Ravel. Raffaella su Ravel, poi Romerus filtrato dalla seconda fila. Sulla prima curva Raffaella è leader, completa il lancio in 13 e mezzo. Raffaella, Ravel, Romerus, poi in quarta posizione partito bene anche Red Mile of Lions. Dal gruppo viene via Rossella Griff, 29-400 e la battistata Raffaella tiene buona andatura con Romeo Gallucci. Prova a non farsi accossare Raffaella, largo risale Rossella, talonata da Regan. 600 in 44-8, si è andati e come nei primi metri. Rossella però giunge a tiro di Raffaella, poi Regan B che forma coppia con Ravel. Cora Romerus, Red Mile, più indietro Rondinaia con all'interno Raipur. Ha sbagliato Rondinaia, ha sbagliato anche Rossella, 1-1 gli 800 e la leader prende vantaggio. Viene via ora Regan B con costrutto a largo. La battistata sembra un po' impigrita, 16 il chilometro e allora sposta Ravel in anticipo su Regan B. Poi Romerus e Red Mile, si va all'attacco della curva finale con Ravel che va su Raffaella che braccia e frusta. Terza ruota per Regan B, circa spazio Romerus così come Ride of Lions, Red Mile of Lions, 1-31 i tre quarti. Il leggero vantaggio Ravel, ora viene via Romerus. Ravel e Romerus vanno all'attacco di Raffaella, poi Red Mile che si libera. Entra addirittura Ravel in vantaggio, Romerus che scatta a centropista, Ravel è passato ma Romerus insiste ai suoi fianchi, passa in leggero vantaggio. Romerus su Ravel, i due vicini ma all'argo è Romerus che si afferma su Ravel, terzo Red Mile. 13-5-11, 2-2 scarsi per Romerus. Romerus, Luca Fierro che all'attesa si afferma bene, 1-16-2 l'ufficiale per il Ken Work and Team, i colori di Luca Fierro al training e alla guida. Lo stesso Luca per la seconda moneta il numero 5 di Ravel che corre bene, terzo Red Mile of Lions, 13-5-11 alla quarta.